di massa. Prima di iniziare però un grazie a tutti i gruppi che ci hanno permesso di dare il via a questa iniziativa, al gruppo Baobab della parrocchia di Cristo Re, al gruppo Intervento San Pio X, gruppo Orizzonte San Carlo cui segue il velliero, quelli del venerdì che sono abbinati alla cooperativa Lambro, da San Giuseppe e il gruppo Fede e Luce per concludere con il nuovo millennio e la partecipazione di Unitasi e Caritas. Ho finito a voi l'onere, l'onore, la gloria, la gioia di dare inizio a questa Kermes. Si presentano da soli in in modo molto, molto energico. Vai! Grazie! 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 Grazie a tutti 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 Strong Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti No, no Grazie a tutti